gentili telespettatori buona giornata il premier mario draghi non ha voluto sentire ragioni quando si sono scontrati governo e sindacati su pensioni e lavoro lui si è alzato e se n'è andato e la riforma è confermata i sindacati stanno valutando di fare degli scioperi nazionali quindi finisce con una fumata nera l'incontro tra i sindacati e il governo ieri pomeriggio tra mario draghi e i segretari di cgl cisle e will tensione e qualche alzata di voce al centro di quello che via via è diventato uno scontro la manovra economica attesa per il via libera in consiglio dei ministri già domani il nodo pensioni è il terreno di sconto ma non solo i tre leader sindacati del leader della cgl maurizio landini il leader della cisle luigi sbarra e il leader della will pierpaolo bombardieri hanno smontato pezzo pezzo la prima legge di bilancio firmata draghi franco che il ministro dell'economia tanto che dopo due ore il premier si è alzato e se n'è andato ufficialmente per un impegno ma era molto contrariato cioè non aveva nessun impegno ha detto non mi interessa più continuare si è alzato e se n'è andato all'incontro era presente anche il ministro dell'economia lavoro e pubblica amministrazione daniele franco andrea orlando il ministro del lavoro renato brunetta ministro di forza italia ministro della pubblica amministrazione sono rimasti a concludere il tavolo con i tre leader sindacali che hanno ribadito il loro no alla riforma delle pensioni ma sembrerebbe che a draghi non gliene sia fregato meno di zero che i leader sindacali erano contrari alla riforma delle pensioni chiedendo invece un sistema flessibile la risposta di draghi è stata secca dal sistema contributivo pieno non si torna indietro non si torna a quando le pensioni erano la maggior fonte di squilibrio e quindi resta confermato il meccanismo di quota 102 e 104 per tornare gradualmente al regime ordinario i sindacati apprezzano il prolungamento di opzione donne dell'appe sociale per i lavori gravosi ma contestano il ritorno alle quote che finirà per concludersi con il ritorno alla pensione ai 67 di età anni di età per tutti ma i no alla manovra sono anche per le risorse largamente insufficienti destinate alla pensione 600 milioni dicono con 600 milioni non fai una riforma degna di questo nome dice landini alla riforma degli ammortizzatori sociali e a quegli 8 miliardi per il taglio delle tasse che per ora finiranno in un fondo ad hoc e poi solo durante l'iter parlamentare della manovra avranno una loro destinazione sono interventi su irpef e irap ma bombardieri della guil dice ora è tempo di dare soldi ai lavoratori e pensionati tanti soldi si sono dati alle aziende senza causalità così si è consumato lo strappo che arriveranno risposte e domani il governo confermerà l'impostazione della manovra intanto i sindacati stanno valutando di fare delle manifestazioni nazionali lo sciopero è lontano per ora ma visto che non ci sono stati accordi non si è stabilito un prosegue del confronto ecco i sindacati chiedono una risposta al governo ma il governo da quello che si è capito non valuta nessuna risposta perché dicono noi non siamo tenuti a rispondere a nessuno non è un ta non è un tav non è una trattativa quella che c'è stata quei sindacati e draghi e i ministri che hanno esposto qual è la riforma che poi ai sindacati piaccia o non piaccia al governo non gliene frega assolutamente nulla avete già visto che a draghi non frega assolutamente nulla né dei politici né dei sindacati lui ha dei suoi obiettivi e va avanti c'è da dire una cosa ieri sera stavo guardando un programma dove si parlava di pensioni c'era la fornero c'era una signora di di una di una di un gruppo il potere al popolo ecco una roba così e l'idea è che quello che si pensa nelle trasmissioni che il ritorno all'età pensionabile di 67 anni sia voluta da un governo cattivo da una fornero cattiva che vogliono così per puro piacere alzare a 67 anni la pensione c'era questa leader boh non sono leader non ho capito bene questa ragazza signora che ridacchiava quando la fornero diceva bisogna tornare a 67 anni con degli scalini e questa ridacchiava dicendo che non è possibile che è inaccettabile ma gli altri hanno detto lei signora può dire quello che vuole sarà inaccettabile improponibile ma il governo non ha i soldi sono sempre meno quelli che lavorano e sempre di più quelli che vanno in pensione con pensioni alte con versioni con percentuali alte di pensionamento pertanto i soldi non ci sono sono l'inps quest'anno ha un record negativo che va a meno meno 32 miliardi record negativo da 32 anni a questa parte questo che cosa vuol dire che il sistema pensionistico è in perdita sono più i soldi si pagano più soldi alle pensioni di quelli che entrano dalle tasse sul lavoro quindi ha voglia di dire facciamo quota 100 facciamo quota 95 andiamo in pensione a 25 anni sarebbe tutto possibile anche andare in pensione a 35 anni il fatto è che ci deve essere qualcuno che paga lo stato dovrebbe essere insuperativo invece i soldi non ci sono anche perché lo stato non ha solo le pensioni ha la classica disoccupazione per quelli che perdono il lavoro e poi c'è la pensione di cittadinanza il reddito di cittadinanza 9 miliardi ci sono guardate che ci sono oltre 3 milioni 3 milioni cos'era 3 milioni 800 persone che prendono il reddito di cittadinanza cioè sono 3 milioni 800 mila persone che sono a carico di chi paga le tasse lo stato non può permettersi di mantenere tutti di fare l'ape di qui l'ape di là e dai soldi di qui dai soldi di là quando quelli che pagano le tasse sono sempre di meno cioè ci sono sempre meno persone che lavorano quindi non bisogna demonizzare perché l'età pensionabile torna a 67 anni facile dire no sono capace anch'io a dire no no facciamo non 62 anni in pensione facciamo a 59 bravo complimenti al professore lui sì che è uno vero sì ma i soldi poi chi ce li mette babbo natale quindi è facile fare eh no gli sbruffoni andiamo in pensione a 49 anni eh bravo facciamolo presidente del mondo ma se i soldi non ci sono è inutile sbraitare tanto se i soldi non ci sono non ci sono che poi li abbiano buttati in mille cose o che li buttino in mille cose è un'altra cosa il dato di fatto è che i soldi per lasciare l'età pensionabile a 62 anni non ci sono allora volete volete andare a vedere dove sono questi soldi buttati perché non ci sono questo è un altro capitolo noi stiamo valutando la prima parte i soldi non ci sono non si può abbassare l'età pensionabile poi se qualcuno riuscirà a trovare questi soldi è un altro capitolo lo vedremo più avanti arrivederci a tutti e grazie